Ciao a tutti, buongiorno, siamo in partenza, sono le 5 e un quarto, siamo a Fiumicino e faremo scalo a Bruxelles e poi da Bruxelles andremo direttamente a Yaoundé in Camerun arriveremo verso le 5 di questo pomeriggio e poi domani mattina prenderemo l'aeroplanino da Yaoundé a Baianga al villaggio dove c'è la sede del WWF e lì probabilmente rimarremo tutta la giornata e forse abbiamo un po' di connessione internet quindi magari riusciamo ad aggiornarvi. Siamo un po' così, abbiamo salutato i nostri parenti, siamo un po' provate però siamo cariche, un po' stanche anche, però siamo cariche per affrontare questa avventura. Ci sentiamo alla prossima. Ci sentiamo presto, ciao!